Gianluca Versano, una partita bella, giocata alla pari dalle due squadre, alla fine forse c'è anche addirittura un po' di rammarico perché eravate riusciti a riprenderla questa partita, nel secondo tempo eravate anche andati avanti, poi siete fatti riprendere nel finale, avete anche rischiato di vincere. Sì, giusto ad esaminare la partita, al primo tempo loro bene, sono una squadra che si vede che gioca bene a calcio e ci ha messo molto in difficoltà, nel secondo tempo noi siamo stati di forse un po' più di intensità, abbiamo cercato di mettere in difficoltà attacchandoli un po' alti, cambiando un po' la disposizione in campo e alla fine tutto sommato il pareggio credo che sia il risultato più giusto perché comunque tutte e due le squadre hanno giocato a viso aperto. Non già da viso aperto, con il De Angelis conquista un altro risultato utile dopo la vittoria sui Pumas e soprattutto dopo una serie di sconfitte che hanno un po' pregiudicato anche il morale della squadra che ora si sta riprendendo. Eh sì, è stato un periodo un po' buio della squadra, il cambio di allenatore, un po' dei giocatori che vengono o non vengono a darci una mano, quindi ci sono delle difficoltà da parte anche del mister di schiarare la squadra ogni volta che si gioca. Però adesso piano piano ci stiamo ricompattando e speriamo di concludere questo campionato nei migliori dei modi. Adesso occhi al Football 8, dopo l'Eurobet Palermo un'altra grande di questo campionato, con che spirito arrivate alla partita col Football 8? Lo spirito è quello di tutte le partite, è uno spirito di combattere su ogni palla, di cercare di arrivare al risultato con il gioco. Sicuramente è una squadra difficile da affrontare, l'andata vincemo mi sembra 1-0, soffrendo parecchio. E cercheremo in tutti i modi di portarci a casa il risultato dei tre punti.